Una ragazza, un albero, un albero in fuoco. L'hai visto veramente? Sì. E tu cosa hai fatto? Ho fotografato. Tu dici che non ami nessuno, perché ami le alberi? Non mi hai detto, non ti sono in mete. La mollia te la... Non. Non, 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 non. E poi? J'ai arrangé tous ces put***n negativ, je'suis hemisphere avec les autres. E poi, j'ai arrêté de fotografier. Grazie a tutti.